la vittoria, palla dentro, lontana la difesa del Milan, la brochitta il suo cross testo all'inglese, la testa è quella di Gattuso, palla che si impenna, poi mettono fuori, cambiasso di prima, per figo, attenzione, potremmo andare al tiro, la mette per Oba con Martins che rovesciata, acrobatica, Adriano, il suo tiro, alto, forza ragazzi! Rimessa effettuata con Adriano che si gira bene, salta due uomini, attenzione, carica il sinistro, il suo tiro è angolato, tanto ma troppo, Inter che allarga molto, configo, attenzione, cerca di andare, Gattuso su di lui, deve girarsi, palla fuori per Favalli, può andare a cross in l'orde, la piazza, primo palo, opa, la gira bene, malato, forza ragazzi. La Ramiro attaccata a sua volta, cambiasso, attenzione, bravo il cuccio, si beve con una finta cacca, mette in movimento, opa, di tacco per Adriano, ancora per opa, opa, salta è quasi, ed è calcio di rigore, calcio di rigore, per il fallo ai danni di opa, è ammunizione per Meta. Rivediamo l'ostruzione di Nesta, fallo di mano, gli ha fischiato il fallo di mano, gli ha fischiato il fallo di mano, gli ha fischiato il fallo di mano nella trattenuta, cade a terra e ferma il pallone con la mano. Adriano contro dida, forza Adri, attenzione, parte la rincorsa, tiro, a gol, 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 L'Imperatore, 1 a 0, portiere della parte, pallone dall'altra, ragazzi, vantaggio, 23 minuti. E' per tutti voi, dice Adriano, e' per tutti voi, dice Adriano, e' per tutti voi, dice Adriano. E poi dice per quello che sta lassù. La bruchita dalla bandierina di sinistra, attenzione, parte la traiettoria, palla dentro con i pugni dita dentro l'area piccola, palla che si impenna, ancora viva, stanco Vicentino, corner 2. Il lancio in avanti con Favalli che recupera un gran pallone, Figo che salta a secco Stam, se ne va, attenzione, Figo va dentro, il suo tiro, la parata, no! Non è calcio d'angolo, ma solo il tiro di Luis Figo con la palla che va all'amnire, il palo si distende Nelson Dida, partono loro in contropiede con Cercenco. Attenzione a Kakà, centralmente, attenzione, ci va Verón, cade a terra, Gilardino, salta a nuovo, messo giù al limite. Parte Pirlo, il suo pallone muro, l'arbitro ripete da rigore, rigore per il Milan. Parte Sheva, attenzione, il suo tiro, gol, 1-1. Messina guarda il cronometro e manda le squadre a prendere il tè. Batte Lungonesta cercando il taglio di Gilardino, il controllo di Gilardino che anticipa Favalli e Samuel, può andare dentro, salta due uomini, pericolo, Gilardino, palla dentro, Sheva, una mischia, lontana, la difesa nera azzurra. Il colpo di testa di Adri per Oba, il colpo di tacco per Verón, palla per Figo, c'è Stankovic da questa parte, buona la manovra, Vecchi, il suo cross, palla dentro. La testa è quella di Calazze che allontana Adriano, ci parla di andare da solo, attenzione Adri, va dentro, messo giù e c'è ancora un calcio di punizione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, i sette passi del Mamba, attenzione, tredicesimo, parte il tiro. Un, parata, è gol, 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 dentro per il gol del 2 a 1, forza ragazzi, Cacca parte bene, azione personale di Cacca attenzione, apertura sulla destra per Gattuso, lo va a contrastare Favalli, Gattuso arriva al limite, scivola Favalli, parte il cross, la chiusura in calcio d'angolo, primo corner del match per il Milan, ripartono loro con Cacca, corsia di sinistra, c'è Seder poco distanza, Cacca va da solo, carica al destro, il suo tiro c'è la deviazione, palo, mamma via, Scema, tiro fuori, racca al limite dell'aria, cerca l'azione personale, Verone viene saltato attenzione, va in corsia, Serginio, cross pericolo, è una mischia sventata, parte la rincorsa di Aldri, scivola, competenza di Dekhi, palla alta, sale il pressing del Cuccio, lancia in avanti a cercare Vieri, attenzione, il pallone controllato, Vieri difende la sfera, Iankulowski, Cacca attenzione, il tiro, la palla deviata in calcio d'angolo, pericolo però, Fischia Messina, parte la traiettoria, palla dentro, Stamgol, non è ancora finita, palla di Vieri, dal vantaggio ambito, recupera Cambiasso, lancio lungo a cercare Adriano, attenzione Adri, e tenere solo il tiro, fuori, clamoroso, clamorosa palla con Adri, Pirlo, Cruz difende questo pallone, si gira bene, attenzione Uli, arriva al limite, cade a terra, c'è calcio di punizione, calcio d'angolo. Veranda alla bandierina, palla a giro, il copo di Sestri, Grazie a tutti! Adriano 3 a 2 sì Nicolo festa grande ammunizione per Adriano chi se ne frega l'imperatore la prima ammunizione della stagione colpo di testa difesa piazzata il mancio che salta sì 3 a 2 manca un minuto forza ragazzi manca un minuto forza ragazzi grande testata Adriano che anticipa Pobovieri la mette dentro forza ragazza adesso mordere 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 attenzione può andare da solo rimpallo Cruz potrebbe andare al tiro si ferma Pavito guarda il cronometro e dice che è finita Inter Batemilan 3 a 2 Inter Batemilan 3 a 2 sì precedo grazie